Ciao ragazzi, come va? Non molto tempo fa mi sono innamorato di questo basso, è un Sire Marcus Miller V3P. Mi ci sono innamorato perché oltre che ha l'aspetto estetico è tutto completamente nero satinato, quindi ha attirato la mia attenzione in una maniera incredibile. Vi lascio tutta la scheda tecnica presa direttamente dal sito della Sire, quindi avrete tutta la scheda tecnica al basso qui in descrizione. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti!